L'anno scorso mi parlavo dei documentari che durava un'ora e mezza dei film che si è addormentati! Ma che dirà? Si è liberato Mirko, devo dirà che si è liberato. Si è liberato, si è liberato. Chiara? Ma tutti i piedi che almeno la fai bene! Ma li vedi da qua! Ma corri! Correte! Andate via! Non ti cominciamo a fare i video, non a fare i piccoli. Non ho memoria! Guarda in su! Guarda, guarda l'oppo! I bambini! Mamma! Cosa ci sono qui? E perché? Non si vuole via stella! Mamma! 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 Mi sono davanti! Ah! Devo portare il caricabatterie e le quadra! Non vuoi! Non vuoi! Non vuoi! Che ci dà a vedere! Eh! Andiamo di là! Andiamo di là! Un attimino! Andiamo ai miei cagliori! Un attimino! E il cuore! Un attimino! Un attimo! Nadia! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Grazie.